Domanda. Io credo sempre di più che l'uomo nell'universo non sia solo e non può essere solo. Già il nostro Sole fa parte delle innumerevoli galassie e la Via Lattea contiene non meno di 200 miliardi di stelle, di cui almo alcune molto più grandi del nostro Sole. È vero? Nemmeno la coscienza insufficiente dell'uomo potrà a lungo sostenere il contrario. In futuro, le creature che vibrano in catene di sentire, molto più evolute delle vostre, si avvicineranno a voi e i vostri avvistamenti aumenteranno. Già adesso avete i messaggi veritieri e illuminati che attraverso gli strumenti i vostri fratelli dello spazio danno al genere umano.